già andiamo a dare i voti ragazzi sono molto provato ancora per questo derby e 5 a 1 non ho messo tutti gli altri entrati perché sarebbero senza voto se non zero quindi per ora facciamo così valutiamo questi e poi gli altri stanno senza voto a parte CQS che è entrato un po' prima e quindi qualcosa potuto tra parentesi fare Magic Mike Magnan 5 gol subiti non per colpa sua forse poteva fare qualcosa in più gli do 6 meno perché magari su qualcuno poteva provarci ancora però nulla di particolare Calabria Calabria ragazzi si fa sempre saltare cioè nei derby è particolare Calabria si fa sempre saltare io direi che un bel 4 più diamo il più perché c'è gente che ha fatto peggio di lui ma comunque lui si fa saltare cioè non è mai stato sostituito da nessuno mai ha pensato non tanto perché fosse il capitano quanto tanto quanto più che altro c'era gente peggiore in mezzo al campo ma adesso mi sa che verrà anche il suo turno sicuramente semiacronici ciao ragazzi molti attribuiscono la colpa a ciao io ti vi dico non è colpa di ciao sicuramente poteva fare qualcosa in più di fatto io gli do 5 più sicuramente poteva fare qualcosa in più ma ragazzi è pronto è che ha fatto quello che poteva fare cioè era Pioli che doveva metterla tatticamente diversa la partita per me è quello chi è ragazzi 3 chi è raga non si anzi facciamoli 5 in verità perché 3 ho pensato un'altra roba 5 perché 5 perché raga non guarda schiaccio pure qua male più che altro perché non è tanto colpa sua nel senso che ripeto sempre Pioli che ha messo male sicuramente lui è lento secondo me non dovrebbe nemmeno giocare però raga non poteva fare più di tanto 6 meno a Teo molti dicono eh poteva fare di più poteva spingere raga ci mangiavano in testa loro erano in otto in difesa non li ho mai visti difendere così bene hanno trovato comunque un altro punto per batterci ancora peggio 5 a 1 quindi eh sei meno a Teo perché ripeto non è tanto colpa sua quanto Calabria forse anche ha fatto tanti errori individuali Teo no l'off to cheek ragazzi sei più è l'unico è l'unico è l'unico è l'unico che in qualche modo io vi sto brillare ve lo giuro per quanto a me non piace l'off to cheek perché mi sembra un po' assomiglia cronice però ha fatto il suo ha fatto il suo raga eh vi devo dire mi è piaciuto molto perché in un centrocampo in una partita in cui tutti ma tutti hanno fatto male sì vabbè ma male per colpa un po' di tutta la squadra lui comunque ci ha provato quindi io gli do un bel 6 più tranquillamente se lo merita se lo porta a casa cronice raga cronice gli do uno gli do uno raga cronice si è fatto mangiare perennemente al centrocampo non riuscivamo a fare nulla perennemente perennemente lui non faceva non ha fatto niente 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 a differenza di kir che comunque era perennemente su lautaro e lautaro stava dietro quindi kir stava più avanti cosa molto intelligente sta roba dell'inter di nzaghi e tanto stupida di di pioli perché purtroppo ci siamo fatti di inchiappettare proprio bene a differenza sua cronice proprio proprio anche le cose giuste che poteva fare le faceva sbagliate renders ragazzi li do quattro e mezzo purtroppo uno di tanti che non ha brillato male male anche lui e comunque non riesce a trovare la via dove l'ha avuto un'altra occasione di no non è riuscito cioè raga renders 1 2 3 4 alla quinta inizio la quarta mi sto incazzando la quinta mi incazzerò se non riuscirai a mettere dentro un pallone montati i piedi non tirare più piuttosto passala cioè ma cazzo ma allenati un po sui tiri renders cioè inizio a incazzarmi anch'io adesso purisic raga 4 facciamo 4 più è come avere avuto messias 5 esi li do 5 meno perché forse ha provato a tenere un po di più palla purisic ci provava la perdeva perennemente 5 esi in qualche modo ci provava l'ho visto un po più più un pante rispetto a polisic ma poca roba è poca roba alla fine fine giro raga li do 5 e mezzo lui scomezzo perché qualcosa ha provato a farlo ha provato a tenere la palla ha provato proprio a tenerla la palla ma diciamo che le sue sponde erano un po inutili lui facciamo quello che effettivamente il mister li chiede perché effettivamente giochiamo così però ha provato anche dato una mano un po in difesa anche per questo 5 e mezzo le ha o sei solo per il voto raga le ha o ci ha provato ma niente cioè la palla le ha o però poi si mangia troppi gol a partita raga lui potrebbe andare benissimo in doppia cifra in 20 giornate scusatemi anche 15 gol in 20 giornate ma si mangia troppi gol 6 solo per quello e pioli 0 raga pioli fa veramente schifo pioli fa veramente schifo nei derby o è interista veramente quindi dice non me ne frega un cazzo le derby voglio far vincere l'inter e allora ok ma poi le dichiarazioni dopo la partita raga le dichiarazioni dopo partita mi hanno fatto venire un nervoso allucinante le dichiarazioni dopo partita abbiamo tenuto palla 4 minuti ma io ti spacco la faccia questo 0 anche per le dichiarazioni che ha fatto raga questo 0 anche per le dichiarazioni che ha fatto io non voglio più vedere una pagina di questo genere nel minan di quest'anno da adesso in poi la partita con un castro la vedrò probabilmente quella con con il verona mi vedrò secondo tempo darò lo stesso la mia valutazione mi voti non me ne frega niente raga e lo farò lo stesso per quello che ho visto ovviamente specificherò arriveranno poi tra poco anche tutti i gol tutta la roba dei gol ma io non voglio più vedere una roba del genere in campo umiliati rimarrà un'umiliazione a vita perché questa rimane a vita purtroppo raga ma da adesso in poi più lì io già non io già all'epoca di quando abbiamo vinto lo scudetto non lo volevo è riuscito a rimanere ancora ma se continuo così raga non va a mangiare il panettone ve lo dico io detto questo vi ringrazio e vi auguro una buonissima giornata serata passate anche nei link di tiktok che usciranno tra poco tutti i video appunto sui più belli gol come avete visto anche l'Empoli ne ha presi 7 quindi vedremo un po' di gol in generale ciao a tutti